Il neo sindaco di Firenze Dario Nardella rassicura con un tweet sulla tramvia daremo tempi certi ai cittadini. E' questa la dichiarazione che esce da Palazzo Vecchio nel pomeriggio di una giornata in cui il delicato equilibrio dei lavori per la rete tramviaria è stato scosso dall'arresto di Alessandro Mazzi, presidente della Grandi Lavori Fincosit, che sulla base di un'offerta di 82 milioni di euro si era giudicata all'appalto della linea 2. Coinvolto nello scandalo del MOSE di Venezia, Mazzi è accusato di aver contribuito a costituire il fondo nero di denaro utilizzato per corrompere gli amministratori veneti. Le ripercussioni che questo avrà sul cantiere fiorentino si vedranno probabilmente nei prossimi giorni. Certo è che i cantieri erano stati aperti solo da qualche settimana e che i lavori per le linee 2 e 3, secondo quanto annunciato, dovranno essere terminati entro il G8 del 2017. Stefano Giorgetti, fresco di nomina ai lavori pubblici nella giunta Nardella, fa sapere di aver già fissato alcune riunioni per valutare l'impatto della vicenda su Firenze. Il primo giorno da assessore, per lui, non è stato certo dei più semplici.